Io le darei sicuramente un 9 perché abbiamo vinto il campionato con 5 giornate anticipo e dopo si è creato un bel gruppo veramente e quello si è visto pure dentro il campo. Sono molto contento per me e pure per il gruppo. Qual è stata secondo te la chiave per cambiare marcia da un inizio che non era stato eccezionale a poi la grande marcia trionfale che avete fatto? Noi venivamo di un campionato diverso e ci dobbiamo ambientare ma pure ci ha aiutato sicuramente il mister che ha tanta esperienza e veramente sono molto contento che come dici tu abbiamo cambiato marcia e ci ha dato sicuramente qualcosa in più il mister. Sono contento per tutti, per tutti quelli che hanno giocato di più e quelli che hanno giocato di meno perché sempre tutti siamo protagonisti. Dopo Franco sicuramente ha fatto un ritorno buonissimo, lui ha giocato veramente la grande e sono molto contento per lui perché era fuori rosa e dopo il mister lo ha messo di nuovo nella lista. Veramente sono molto contento perché un razzo se lo merita, più di là che ha le qualità è una grandissima persona. Tutti hanno detto che quest'anno Mugnoz è cresciuto molto, qual è stato il tuo segreto? Sicuramente la maturità, quando uno diventa più grande gioca più partite sicuramente è normale, uno è più maturo, ha più esperienza e quello si vede in campo. Ma io come sempre vedete, sempre faccio il meglio per la squadra, più di là che si può migliorare, sempre faccio il massimo e quello per me è quello che conta. Sicuramente uno mi ha sorpreso per la giovane età che ha, Belotti, perché ha fatto valere le sue qualità, pure Paolo Di Bala ha fatto valere le sue qualità prima l'anno scorso pure. sappiamo che è un ragazzo di qualità e sono molto contento per loro perché sono protagonista pure di questa campionata. Per me il momento più bello è il derby pure, il derby quando abbiamo vinto qua contro il Trapani, dopo là sicuramente è stata un'emozione bella, ma sicuramente quella partita contro il Novara è stata importante per noi, pure perché abbiamo raggiunto l'obiettivo. Per me sono stati tanti i momenti veri, per me è stato tutto l'anno bello, perché come ho detto si è creato un bel gruppo e veramente ce l'abbiamo avuto il massimo. Ai tifosi rosa-nero cosa vuoi dire in vista delle vacanze? Che loro devono stare tranquilli perché noi al ritorno faremo il massimo, faremo un bel retiro e dopo faremo il massimo per giocarci la Serie A come il Palermo se lo merita.